ragazzi guardate cosa ho comprato per la madia no per quel coso da trucco a forma di lavatrice questo bel piatto siciliano speriamo che gli piace al conte e soprattutto che non mi chieda quanto mi è costato scetto amma dove sei sono tornato guarda che ho comprato per la madia guarda che rispecchia catania guarda che bel piatto di de simone ti piace scelto ti piace per la mano per metterlo qua ci vuole un reggipiatti e non ce l'hai abbiamo comprato l'altro giorno mi piace qualcosa a forma di lavatrice questo è bello rappresenta catania ma dove l'hai comprato in un negozio un negozio scelto ma era svendita l'ultimo pezzo no l'ho preso scondato l'ultimo pezzo era no ce n'erano però era scondato quanto è costato allora costava 68 asino cotto 68 no però io l'ho preso scondato e tu sei asino cotto l'ho preso scondato quanto 42 ma la signora mi ha detto non si può neanche cambiare perché è scondato amara dobbè diciamo amara dobbè io vabbè ragazzi non ce la posso fare non è bello 42 euro ancora qua sei lì guarda ti sparo no vabbè ragazzi ora la signora cucciupotta ma comunque vabbè ragazzi ci ho provato